È un crossover eco-friendly dal design top Ti presento DS3 Crossback nell'allestimento E-Tense Performance Line Un modello con motore da 77 cavalli e alimentazione full electric È un chilometro zero, quindi un'auto nuova che però è già stata immatricolata Infatti, come possiamo vedere già da un primo sguardo, è perfetta sotto ogni suo aspetto Grandissimo design con questo colore bianco metallizzato e moltissimi dettagli bicolor Davvero durissime queste linee di tensione che troviamo già sul frontale E che si abbinano perfettamente a questi fantastici fari full LED Poi sono molti i dettagli cromati presenti Certo, grandissimo design, ma anche attenzione ai comfort con i sensori di parcheggio perimetrali Basta fare un passo indietro per notare ancora una volta il design unico di questo crossover Ma notiamo anche l'assetto che è leggermente rialzato e vi regalerà una guida comodissima I vetri posteriori sono oscurati proprio come il 1.8 Bellissime anche le maniglie cromate e a scomparsa Meravigliosi questi cerchi in lega da 17 pollici di colore nero Ovviamente trattandosi di un chilometro zero sono nuovi proprio come il battistrada Oggi non vi parlo di consumi ma di autonomia trattandosi di un'auto elettrica In questo caso la DS3 Crossback ha un'autonomia di 320 km E la durata della ricarica è di 30 minuti con la colonnina oppure tra le 5 e le 8 ore A seconda del tipo di ricarica che effettuerete Diamo uno sguardo al bagagliaio di questa DS3 Crossback elettrica Un bagagliaio da 360 litri In questo momento lo vedete occupato dal caricatore che è ancora imballato Trattandosi di un chilometro zero e dal kit di pronto soccorso Ovviamente se lo spazio non vi dovesse bastare è comunque possibile abbattere i sedili posteriori Diamo ora uno sguardo al lato posteriore del veicolo e guardate quanto spazio Ma poi vabbè quanto design per i sedili dei passeggeri posteriori Ovviamente il design viene sempre accompagnato dai comfort con gli attacchi ISOFIX presenti A entrambe le sedute posteriori laterali che rendono questo veicolo family friendly Non male anche lo spazio nel lato anteriore del veicolo Come già visto nel lato posteriore i sedili sono in alcantara, in tessuto e con rifiniture in pelle Sono davvero morbidi ed avvolgenti e questo li rende adatti a ogni tipo di viaggio Probabilmente basterebbe guardare le portiere con queste forme squadrate E questa grandissima attenzione al design con l'alcantara e queste parti in similpelle Per capire la filosofia di DS Questi sono poi i materiali che ritroviamo anche sulla plancia Davvero grandissima attenzione al design con queste forme romboidali Devo dire che mi sono un po' stancato di dirlo e probabilmente voi vi sarete stancati di sentirmi dire Attenzione al design però guardate anche in questo caso il volante con la scritta cromata È in similpelle con le cuciture a vista davvero meraviglioso Dotato di comando per richiamate, comando vocale E qui dietro al volante troviamo il comando del cruise control Il sistema di avviamento è start and stop Ora accenniamo il quadro Il quadro elettronico ci mostra sempre lo stato della batteria del veicolo E i più attenti noteranno la dicitura charge Perché durante le frenate e durante il rilascio la batteria si ricarica autonomamente Occupiamoci ora del sistema di infotainment Abbiamo questo schermo touch dal quale possiamo accedere alla radio e ai multimedia Al clima che è automatico Ha tutte le funzioni di guida con i tasti rapidi e le impostazioni del veicolo Ha la connessione tramite bluetooth o tramite mirrorlink con apple carplay e android auto per il nostro smartphone E poi è presente la gestione delle foto e degli sms Poi mi piace il fatto che il tunnel centrale sia così imponente pur non risultando ingombrante Infine lo avete già intravisto C'è questo cambio che è automatico e riporta il logo della E trattandosi di un veicolo elettrico E non appena inserisco la retromarcia si attiva un optional davvero utile La retrocamera Infatti il computer di bordo mi mostra l'area di manovra e sarà davvero semplice parcheggiare E con questo amici abbiamo finito davvero un'auto elettrica dal design super Se sei interessato allora ecco il reminder Vai sul sito rattiauto.com Puoi bloccare quest'auto con soli 100 euro senza impegno E riceverla comodamente a casa tua con igienizzazione e garanzia europea Seguici poi su tutti i nostri social e attiva la campanella del nostro canale youtube Per rimanere sempre aggiornato Al prossimo video Alla prossima auto